Sbaglio la cosa della, se non sbaglio, oddio potrei aver fatto un'invettiva che in realtà non è corretta ma Correggetemi se sbaglio la cosa degli account partner sono facilitati l'aveva tirata fuori Brits Poi non ne sono sicuro, Brits tutto rispetto eh se non sei stato tu, tranquillo Ogni tanto lancio delle accoltellate quella, potresti essere stato preso Comunque ascoltare dieci minuti un imbecille che dice Oh c'hai una partner quindi ti facilita l'account Figa ragazzi Ci ha scoperto, cosa vi devo dire? Io, cioè io meritavo il bronzo fino a... Oddio ma io sono venuto bot, come se dovessi essere la di carry Ops Ci ha scoperto ragazzi, io dovrei essere bronzo perma e invece grazie all'account sono platino almeno Pensa io che ti guardo ogni giorno per due ore e mezza, attaccati a sto cazzo Coco Sei mai stato Napoli? Sì ma non in moto Minion in azione Questo c'è se potete almeno buttare le subscription? No, quelle in teoria non potete buttarle penso No, sapete che forse si buttano anche quelle? Non me lo ricordo C'è qualcosa che botta le subscription? È un'uscita il tizio della multa Napoli e mai sento nominare Anche Xerat è uno di quei campioni che mi piace C'è un piccolo problema, io faccio caccare con gli skillshot Anche Xerat è uno di che È un dio questa Eh vacca troia, ma quanto è forte Ma ha tirato due attacchi base E io non ho potuto dire nulla Ma so che è un trucco con Xerat è tirare prima la V e poi la Q Io però adesso se mi avvicino lui tira la cage Giusto? Buono Meno buono questo Oh però sono il suo stesso farm, let's go Un terzo del mana ma Dettagli Eh ma queste le sa tutte della Midland ragazzi Quale è il smurf? Non molto buona la botta Let's go Let's go Boh Asbe Il tp si usa? Io lo uso Scarpe Facciamo cos'è Ah però Ah beh no Io in effetti ho preso le scarpe Ah mettiamo una ward qui E cominciamo a giocare bot side nella Mid In modo da Followare Un drago Se parte Questa roba forte Ok Sento un super cattivo a giocare Xerat Giuro Dovrà passare da autoattacchi da 900 danni a 65 Sì Abbastanza Cambia giusto un pochino Però ragazzi Cioè non trovate rilassante il giocare il mage Cioè guarda arrivano Si escono i miei miei non tirano questa sberlina Poi si allontanano Ogni tanto tirano una skill Così Che alla fine c'entra sempre Il mana non lo finite Guarda che Com'è Com'è tranquilla L'aning phase in mid Ragazzi Cioè L'avrà creata Buddha Oh mi sono fatto prendere Mannaggia Cioè poi Trovate il tipo che gioca a Zed E impazzita Se mi si perso il carretto piangevo E' al 6 quel tipo E' al 6 quel tipo Buono Chi è una peggio ancora Sì in effetti è vero Chi è una peggio ancora A volte ne sta vincendo Vabbè dai Messa bene Buono Prendiamo questo E poi prendiamo il dark seal Perché siamo fortissimi Certo cazzo Una per assist Due per le kill Insomma Voliamo nel cielo Ragazzi Con il dark seal Ve lo dico Un nemico E' stato ucciso Io E' un nemico Come Prendi E' un nemico Claro Il 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 Rent Il Si Hob Nice Poi i jungler ti gankano Ragazzi impressionante I jungler ti gankano anche Ma è un paradiso la mid lane Questo quanto mi scoppia da Uno a un culo Pregati questo scemo Adesso come ti senti eh Pregati anche questo Non so se l'ho preso Eh c'è questo piccolo problema Si Garon un po' addormentato eh Ma vabbè fa niente Noi abbiamo fatto molto danno il tipo Si prendono le scarpe Prendendo l'oggetto completo Sembra di si Abbiamo perso le nostre stack Rip Quante ne perdono? Perdi cinque cariche Rip Rip E due livelli sopra man Perché lo fighti? Si impazzito Un minuto Drake Il chi vuole è già tirato? No Tra l'altro è l'ultimo ragazzi Facciamo dopo questo game va bene Ricordatemelo però Perché dopo me me ne scordo Sono diventato Mamma mia ragazzi 23 anni picchiano duro eh Vecchio come una merda Aiuto C'è Kazix nel fiume Aiuto No dai fra How is that even possible? Kazix è 3-0 Rip Quanta distanza fa Secondo voi Kazix Da invisibile Più salto Se non voi lo fa Da questo cespuglio Fino a me Dove è essere Let's go Dammi idiot No Ok buono Oh fuck Oh doppio fuck Non so cosa fare man Non ho più niente Let's go Yeah Let's go Il carretto pure Okami a gem Okami a gem Okami a gem Come l'ultimo Eh sì L'ultimo codice Ma l'abbiamo finiti A parte che Non mi sono segnato Quando scadono raga E va E se fossero già scaduti No in teoria no Perché l'hanno riscattato L'ultimo E va Fatemi vedere Quando scadono Dopo questo game Dopo questo game Non defocusiamoci Dopo questo game Ricordatemi dopo Di guardare quando scadono Ragazzi Secondo me scadono i primi di settembre Il 28 Chi te l'ha detto Samgill Sei sicuro Vabbè comunque finiscono oggi dai Cioè abbiamo uno da dare Che doveva andare al discord Ma nessuno ha risposto Quindi forse potremmo dare due Ok dopo controllo Samgill Però si Sai che C'ho questo 28 in testa anche io C'ho questo 28 in testa anche io Il Kha'Zix non one shot Vero Idiota Eh però fra Si sei due bruttoni in culo I primi sono di avvertimento L'ultimo è quello che veramente ti prendo Ovviamente Buono Ok Ombro fiamma 3000 gold Ok Questo che dà 60 dp No questo qui è 10.000 volte più forte Vediamo questo Si Vediamo queste due Prendiamo una pink Carretto con la comet E skill Vazzi Io potrei usare questo Questo tp Però Oh Avevo la pinking nel coso di sbagliato Ops Eh, un'azione un po' cringiotta, eh Però vabbè, dai Via Lucian V morto V morto Eh, però Kha'Zix che recupera metà HP con un fottuto tasto Ah, le dobbiamo swappare, rip Eh già voi Oh, oh Sono terrorizzato E anche in pericolo L'ho mancato Uff Mamma mia Ma com'è possibile che un Kha'Zix sia così duro? Vaffanculo gli item Vaffanculo gli item E meno male che non ha la death dance ancora Facciamo qualcosa d'area, no? Scappa da Pichar Sto inerabto Ops Succede Facciamo Ah, perché aumenta, visto? Allora chiudiamo questo, prossimo Ma perché vado lentissimo, Dio santo? Ho le scarpe, poi flutto Dovrei volare come un cazzo di cotto Tipo così Una roba del genere Capito? Avete compreso questa cosa? Io non dovrei star mid però in effetti Io mi incazzo sempre con i mid laner che poi stanno mid Beh, questa me la prendo io Eh 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 Beh, questa me la prendo io Ho hyper fuori posizione Dai, non è possibile Ok Mi chiede questo, scemo Io però ho zero vision E dei due Quello che muore da una combo sono io Quindi non è molto good come storia Eeeh Io che mi demoformo mentre tiro le ultime xerath Cazzo Servo un 50 gold E rimaniamo botte Sto xerath? Eh eh Sono finito mid lan man Ah cosa faccio? Non picco xerath Che sono il più forte xerath al mondo io Qui c'ho il flash eh Io no Quindi devo attaccarmi al cazzo un po' Adesso facciamo il bel rabatum Il rabatoimb Rabatoimb? Oh Siamo a quelli I rabatoimb Oh mannaggia I rabatoimb 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 Ok Cazzo è morto Sono terrorizzato Andiamo a prendere questa torre Eh Ok Che 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 Call di merda è Fra ma che call di merda è Ma che call del cazzo di merda è Stupidone Via dalla mia torre Nazisti Oh Fermi in seconda Oh Fuck Due Una No Fra però Ti abbiamo dato tutte le cose per farlo Ho intanto Ok Niente Come un alleato Ah ho visto il cosa Ha quattro scoreggi Ma mannaggia What? Siamo per la giungla Ok Ma la zonia No la zonia fa schifo ragazzi Chi l'ha pinta la zonia? Ma per cosa poi? Non so se mica dei tipi ad Nell'ultimo avversario No Non serve un cazzo la zonia Ok ok Forse potrebbe servire la zonia La farò? No Però potrebbe servire Mica di questo Ah scemo in culo Mica di pure questo Oh ad carry Ah niente Ho mancato Ari Easy Mamma mia Sti da do il carretto con l'attacco Che fa 5 scoreggi di dann Let's go Let's go Boeing Beccati questo Baron di merda No no ragazzi Che cazzo fiamo? Via Oh Oh Fate resettare sto cazzo di Baron Invece che beccare 4.000 schiaffi Vai Se vuoi Scusa ma come cazzo Lo sa lui Ho il tp eh Arrivata mia torre Oddio c'era davvero Ma sei un pazzo assassino Ma che cazzo usi queste tecniche bronze Davi i tuoi soldi Sè Davi i tuoi soldi Davi i tuoi soldi Oh vacca troia Che male della madonna Che ho fatto Ove Fermi il secondo Easy New York Sarate Signori Ma dubitavate Ciao Gab Parte sulle torri questo No Però parto su questi Easy Sapo Grazie mille per il resa Bentornato Bellissimo Scusa non è partito l'alert Perché l'avevamo tolto Per colpa di Alcuni Bottoni Per dei bottoni Che ci avevano lanciato No L'ho ucciso Mentre è invisibile Let's go Ah ma avevo un altro colpo Potete ucciderla Ops Se muoio Muore anche lui Quindi E se Se muore lui Muoio io Giochia di carry Idiota Giochia di carry Coglione Pagliaccio Gioca di carry Gioca di carry Gioca di carry Gioca di carry Codici e bagno Codici e bagno Tra l'altro Ho anche ricordato Che mi scappa da pisciare Grazie mille Grazie mille man Ok Una cassetta Non c'ho le chiavi Eh vabbè C'ho mai le chiavi Cronologia partita Però Anvedi questo Anvedi un pochino No c'ho le chiavi No c'ho le chiavi